Una pedana a sorpresa, questa del Pincio. Per la scala vi salgono le indossatrici. Grande estate, delizia grande, diceva D'Annunzio. Le donne danno ragione al poeta con gli attilati tailleur, coi vestiti leggeri, gli stampati esuberanti di fiori, gli ombrelini spiritosi da scherzare anche col sole. Comincia la stagione delle grandi gite e la pedana offre le fuori serie. E viva, grida il nostro Riva. Passa la Fiat TV, un carrozziere torinese la vestita di lucente lamè. Doppio sprint, c'è anche quello briosissimo della modella. In una eventuale polemica volentieri si difenderebbe una macchina così, ma sarebbe assurdo per difenderla spezzare una lancia. Molto gradita alle indossatrici questa sfilata a motore. gradita anche a noi finché le auto marciano in prima. Ma Brunella Bovo preferisce la quarta.